Sono alcune persone, me compreso, che utilizzano Alibaba. Allora, quello che io faccio solitamente è andare su Alibaba, trovare il miglior fornitore, più che altro il prodotto al prezzo più basso, dove la qualità sembra quella più alta, e mi assicuro appunto che questa azienda sia anche nel mercato da circa, diciamo, tre anni. Una volta aver trovato, diciamo, un listing, quindi l'annuncio su Alibaba che rispecchia queste condizioni con il prodotto appunto che sto cercando, vado a contattare direttamente il fornitore, andando appunto a chiedere se offre un servizio di dropshipping.